Ieri in tarda mattinata ha seminato il panico all'iperal di Via Vanoni, l'uomo che questa notte i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Sondio hanno bloccato e tratto in arresto, dopo che questi aveva devastato il pronto soccorso dell'ospedale cittadino e minacciato di morte brandendo un coltello il personale sanitario e la dottoressa di turno. La giornata dell'uomo, uno straniero di 31 anni, era iniziata ieri verso mezzogiorno con un primo viaggio al pronto soccorso, dove era stato portato in stato di forte alterazione dopo che all'iperal, assolitamente molto frequentato a quell'ora, aveva spaventato non poco i presenti scaraventando numerosi scaffali a terra, imprecando contro i clienti e proferendo minacce con gesti inconsulti. Un primo viaggio al pronto soccorso, come detto, perché dopo essere stato rimandato a casa dopo poche ore di osservazione, a Ponchiera dove abita, l'uomo ha di nuovo dato in escandescenze, gridando e gettando oggetti di ogni genere dal balcone, costringendo così i vicini a chiamare di nuovo le forze dell'ordine. Gli agenti della Polizia di Stato hanno così riaccompagnato al pronto soccorso GI, queste le sue iniziali, che tuttavia è stato dimesso dopo circa tre ore, poiché i medici, dopo averlo visitato, avevano escluso la necessità del ricovero. La giornata per GI evidentemente però non era ancora conclusa, perché intorno a luna si è ricato al pronto soccorso cittadino, provocando diversi danni e minacciando il personale con un coltello. Grazie alle telecamere collegate in tempo reale con la centrale operativa della Questura, una novità questa introdotta da poco e che si è subito resa utile, i carabinieri giunti in breve sul posto hanno immobilizzato l'esagitato e lo hanno trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa dell'udienza di convalida fissata per quest'oggi. Due riflessioni al termine di queste ore concitate. Da una parte il recente protocollo siglato tra Questura e ASST per la tutela del personale e dei pazienti del pronto soccorso si è rivelato prezioso, preziosissimo. Dall'altra però ci si domanda come sia possibile che per un soggetto che finisca lo stesso pronto soccorso due volte a distanza di poche ore e in condizioni di evidente squilibrio psichico non scatti il TSO, il trattamento sanitario obbligatorio.